Eccoci e bentornati sul mio canale, riprendiamo con Emy. Allora, siamo con Lana e stiamo andando a cercare Emy, che a quanto pare è sparita dalla carrozza del treno, quindi cerchiamo assolutamente di trovarla. Qui dentro che c'è? Siamo stati assaliti da un tizio che non prometteva niente di buono e poi ce lo siamo ritrovati morto davanti ad una porta. Allora, apri la porta. La porta è chiusa. Ti pareva che ci poteva andare bene? Distributore di lattine. Premier 3 per abbassarti e sicurare i nemici senza farti scoprire. Ok, dove c'è che stanno? Uh, eccoli. Quanti sono? Uno. So, so, è a posto. Mamma mia, si è dileguato. Sembra tipo fatto di gas. Cacchio. Ho sentito dei rumori. Cavolo. Ah, la corrente elettrica qua. Cioè, andiamo a vedere. Percorrere muovi la levetta sinistra tenendo premuto L1. Allora, aspetta. Ah, parco ca... Oh, cacchio. Cacchio. Lo sapevo io che sentivo dei rumori. Sentivo dei rumori. Mamma mia, che strilla. Dai. Brava. Brava lana. Ok. Ma l'energia dove ce l'abbiamo? Tipo la visuale del sangue che vediamo, forse. Allora. Facciamoci un giro. Vediamo un po' se troviamo qualcosa di utile. Qua niente. Dovremmo trovare, secondo me, la chiave di quella porta. Vediamo un po'. Qui sotto. Si scende. Però non c'è una mazza, giusto? Sì. Qua presumo che la carrozza del treno da dove venivamo. Facciamoci un giro qua. Qua niente. Mamma mia, proprio buio pesto. Buio pesto. Qua c'è qualcosa. Vediamo un po'. Prendi. Che cos'è? Bastone? Ce faccio un altro bastone. Non mi serviva. Qua non ci posso andare. Cacchio. Aspetta, mi sono incastrato. Chi è che mi fa incastrare il perno del treno? Ok. Andiamo. Dobbiamo trovare, secondo me, la porta. Per correre più in fretta. Addirittura. Aspetta, qua che c'è. Ma niente. Va bene, che dobbiamo rinforzare. Correre. A più non posso. Qua la porta si sarà aperta. Andiamo un po'. Col cavolo. Perché normalmente quando ti fai si cacchia di giochi. Uccidi qualcuno e poi magicamente la porta si apre. Però facciamoci il giro di qua. Aspetta, qua c'è qualcosa. Qua dentro non c'è niente da trovare. No. Niente. Exit. Usciamo. Qua? Aspetta, qua c'è qualcosa. Ah, perfetto. Un'altra cosa sicuramente. Anticontaminazione. Qui? Un altro. Sempre sta cacchio di corrente elettrica che arriva. Più non posso. Aspetta, qua che c'è. Un altro bastone. Che facciamo tutti questi bastoni? Ma non mi fa salire, giusto? Questo non si può aprire. Mi rimane strano che dentro a certe porte non ti va a fare niente. Com'è possibile? Scusa, qua non c'è proprio nulla da poter fare. Un cuscino, la barella. Facciamoci in giro. Bene. Non c'è proprio una mazza. Niente. Niente. No, c'è proprio una... Niente qua. Sto coso. Ok. Allora, vediamo. Ti. Cercare qualche altra cosa. Vendita. Noi siamo venuti da di qua, giusto? Noi siamo venuti da di qua. Qua è da dove siamo venuti. Però ci deve essere per forza qualcosa per accedere. Oh. Ci siamo persi una chiave che sta da qualche altra parte. Oppure non lo so. Però adesso ci mettiamo a vedere. All'acqua niente. Qua è da dove siamo i nuovi, giusto? Qua c'è stata la corrente. Qua sotto nulla. Facciamoci un giretto, eh. Truc, truc. Stasse non si è sposta. Però c'è stava qualcosa. Aspettate un po'. Voglio far giro da quest'altra parte. Qua è niente. Gira, gira, mica lana. Qua è proprio chiuso. Sì, qua è proprio chiuso. Non ci possiamo fare niente. E là ci sono già andato. Qua è nulla. Qua sta cacchio di porta che è chiusa. E l'unica, secondo me, è risalire sopra e vedere se ci siamo persi la chiave. Qua che c'è? Qua niente, non si può accede. Oh, stava in un punto che non abbiamo analizzato. Adesso andiamo subito a vedere, eh. Allora, si saliva qua. Vai, sali. Piano. Piano. Non è che sto tanto tranquillo. aveva questi rumori in sottofondo. Allora, Silver City. Qua non vedo niente di luccicante da prendere. Andiamo di qua. Mamma mia, non so perché. Pure se è abbastanza tranquillo fino ad adesso. A parte quello... Quel morto che mi è spuntato. Però per resto ancora sto abbastanza tranquillo. Non ho solamente un attacco di cuore. Allora. Questo è possibile che non abbia niente. No. Nulla. Queste cacchio di porte non si apre nessuna. Danno verde ma... Non ti fanno prendere niente. Qua nulla. Perfetto. Quindi qua non ci siamo persi. Per fortuna niente. Andiamo avanti. Ha capito che sta la chiave... Per aprire quella porta. Porco cane. Mi ha messo più paura lei che ha strillato che... Che il coso che è caduto. Qua che c'è? Qua niente. E qua niente. Ci manca solo alcuni quadri che cadono. Mannaggia la miseria. Caccia. Ok. Scenti. Dall'altra parte ci avevamo visto non c'era nulla. Giusto? Aspetta qua. Ah. Ancora altri... Così. Antivirus. Quindi niente. Andiamo dall'altra parte. Non è che ci resta... Tanto da vedere, eh. Qua è chiuso. Questi armadietti sono chiusi. Riaccosta cacchio di porta. Non ci abbiamo nient'altro. Ci abbiamo solo l'orzacchiotto poi. Manca di che... Questo è il bastone. Scusa, il bastone rompe qualcosa. No. Oh. Aspetta un po'. Di qua. Proprio qualcosa al bastone. Niente. Meno... Te mina solamente. Te da solo le botte. Ok. Aspettate. Sta a pensare. Se quel cosa lo rompiamo, quello della corrente, lo farà rompere. Poi ci prendiamo la scarica. E un po'. Aia. Niente da fare. Ma ci sarà un accesso? Sono solo quello. Amy. 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 È io. Lana. Che cacchio è su di ciò? Psst, over here. You sure you was traveling with a little girl? I need to find her. Her name is Amy. Help me. Or hide. I'm gonna find her. My name's Marcello. I can help you. I was just heading to the station monitoring office. The cell network's down. But I'm sure they got some fixed lines over there we can use to call somebody. I got a pal, or I hope I still got a pal, that works there. Maybe your little girl went that way. Just help me look for Amy.